cari amici benvenuti in questa nuova puntata di minecraft ed eccoci pronti a mostrare una nuova fantastica creazione realizzata con un unico comma blu a che è in manella includitici mi raccomando se non avete visto il nostro video dedicato alle case più piccole di minecraft vi consigliamo di andare subito a vederlo lo trovate in descrizione e poi di tornare su questo video perché quello che sapevate non corrisponde più alla realtà visto che the red engineer ha creato le micro house ovvero le case microscopiche se le case dell'altra volta vi sembravano già molto piccole ed erano effettivamente molto piccole questa volta vedrete che resterete sbalorditi ci sono diverse caratteristiche che rendono questo comando piuttosto bello e interessante che nonostante sia più piccolo lo differenziano dall'altro comando per diversi aspetti no l'ho spaccato l'alberello sei proprio una testa di rapa sono come un gigante che ha distrutto una città in miniatura sono una cosa terribile è una persona schifosa iniziamo subito col craftare la casa buttate per terra un orange ardened clay e tre diamanti e otterrete la vostra micro house che potete piazzare dove volete siete pronti non so se siete veramente pronti ma ecco a voi la casa più microscopica di minecraft ma sembra un semino guardate è pazzesco è troppo piccola cioè in confronto sembra delle mega ville le altre è qualcosa di veramente esagerato da quanto è piccolo ed è fatto naturalmente alla perfezione abbiamo qui appunto il caminetto che fuma funziona il cammino finestrella la porticina e tutto quello che vedete naturalmente corrisponde alla casa che poi potremo visitare tra un attimo quando ci siamo miniaturizzati beh siete pronti adesso per vedere intanto la differenza rispetto a me perché cioè nel senso guardate è praticamente grande come metà della tua faccia è una cosa veramente minuscola e adesso direi di provare ad entrare all'interno di questa casa con un bel saltino saltino più ampio eccoci qui dentro tra l'altro guardate che bella sembra veramente di essere in una specie di zona tra le dimensioni e questa è una casa che ha tutte le comodità che vi servono per esempio un cesto che dice che the red engineer è la migliore persona del pianeta una fornace già pronta una crafting table e anche qui nel sottoscala la barra dove c'è riporto è morto e ci siamo dimenticati di dare da mangiare nel sottoscala un doppio cesto per contenere la roba il caminetto attualmente è più che alto scenico però è fatto bene e poi per esempio possiamo salire al piano sopra dove troviamo delle porte e che portano appunto a un paio di stanze che potrete essere voi a decorare come più vi aggrada infatti se nell'altro comando voi non potevate in nessun modo interagire con la casa perché eravate in adventure quindi potevate a fare utilizzare gli oggetti che già c'erano senza aggiungere altri questa casa non vi cambia la game mode quindi se anche foste in game mode 0 in survival potreste benissimo fare quello che volete quindi possiamo trasformare questa in una camera da letto e possiamo per esempio mettere qui il gabinetto aspettate non così alto non è che siamo giganti lo sto creando sono ancora in creazione ecco fatto un'idea molto strana dei gabinetti un attimo che lo sto facendo eccolo qua guardate la cartigenica manca la cartigenica dove la metto la cartigenica dove la metto qui così magari se la mangia anche che ne dice così ed ecco fatto ti siedi e mangi hai tutto quello che serve e beh e dopo che ti mangiare fai anche altre cose fantastico esattamente quindi è una casa che voi potete utilizzare e la potete anche nascondere in qualsiasi momento e la potete anche prendere e ritogli ogni volta che vi serve se volete uscire dalla casa vi basterà passare attraverso la porta ed ecco fatto che siamo di nuovo fuori dall'alto dal lato giusto dove c'è la porta sono le case di lipuziane se vi ricordate queste altre case formavano in realtà una specie di costruzione in alto in alto quindi non potevate veramente utilizzarle in un modo stealth perché chiunque da lontano le avrebbe viste e a costo di mettersi a fare un enorme torre di dritta avrebbe potuto cercare di rubare il contenuto dei vostri cest mentre questa casa dov'è guardate questa casa invece apparentemente non ha nessun tipo di simbolo che fa capire dove sia per scoprirla possiamo vedere che in realtà si trova nel pavimento a circa una ventina di blocchi sotto il terreno troveremo la vostra casa che quindi se aziccate una zona giusta potrebbe essere completamente circondata dalla lava potrebbe essere bella protetta ma uno potrebbe benissimo scivolare qui nella caverna direto guarda la casa di un tipo quasi quasi gliela vandalizza un po' però appunto è sicuramente molto più difficile trovare uno perché comunque le case sono davvero minuscole e voglio sfidare una persona che riesca a vederla anche solo se la mettete qui mezzo all'erbata cioè nel senso cioè voglio vedere voi stessi non riuscirete a trovare casa vostra dove è casa mia dove ho messo la casa vedo vedo il fumo ecco potete notare dov'è casa vostra dal fumo spegnete sempre il cammino prima di uscire di casa e quindi è davvero comoda perché appunto è bellissima da vedere di nuovo posso dire questo e poi potete naturalmente utilizzarla come meglio credete appunto per il fatto che può essere personalizzata a vostro piacimento se non volete più che la vostra casetta sia in un posto vi basterà spaccare il pavimento il blocco che c'è sotto tipo così e a quel punto dovrebbe ridarvi l'uovo ma me no perché non me lo merito proviamo adesso a fare un test diretto per vedere la differenza dimensione vediamo se si riesce a mettere lì sembra la neonata delle altre case questa probabilmente deve essere lo sgabuzzino che uno ha magari nel giardino oppure se uno potesse mettere un po più in alto sarebbe la casetta sull'albero la casetta degli uccelli a questo punto è bellissima e state attenti perché non potete mettere troppe case una vicino all'altra perché altrimenti naturalmente si baggherebbe la casa sotto il terreno e dunque vi dice no non puoi metterla naturalmente non perderete l'uovo e quindi i vostri tre diamanti e la potrete piazzare solamente quando sarete ad almeno 19 blocchi di distanza l'una dall'altra molto bella e hanno detto red engineer e katsuki il creatore delle delle tiny house che vogliono fare una guerra alla casa più piccola di tutti come fanno a farla più piccola di così un mezzo bottone cosa vogliono fare non so dirvi se sarà possibile però fateci sapere nei commenti se qualora uscissero altre micro case se volete che ve le mostriamo e vediamo un pochino chi sarà il vincitore della casa più minuscola mai creata mi aspetto un pixel come vincitore noi speriamo che questo comando vi sia piaciuto complimenti ad red engineer per averlo creato grazie di cuore per essere stati con noi e dalla nostra casa minuscola è tutto e alla prossima con gli eterna love ciao ma avevi per caso in mente di cominciare un allevamento di puffi di formiche di folletti cosa avevi in mente